Would you marry me today? Would you marry me right now? Would you marry me, my love? Would you marry me for good? Può esistere una convivenza fra un ragazzo omofobo e un ragazzo gay. Cosa possono imparare l'uno dall'altro? È un tema particolarmente attuale vista l'intoleranza diffusa che affronta il film Amici per Caso di Max Nardari che è sì un regista ma anche un compositore e in questo caso l'autore della colonna sonora. In parte l'avete appena ascoltata. Sentiamolo. Buongiorno Nardari. Buongiorno a tutti. Salve. Sono felice di essere qui. Grazie per averci ospitato, per avermi ospitato. È una commedia dei buoni sentimenti la sua? È ottimista? Sì, è una commedia divertente, brillante, con un bel ritmo serrato e tocca un tema delicato che appunto come diceva, un tema delicato ma raccontato con un sorriso per far capire che tutti siamo uguali. Nel senso che in questa storia in Amici per Caso ci sono due ragazzi che convivranno insieme, un ragazzo etero un po' omofobo, un po' rozzo che segue la Roma. Di là c'è un ragazzo invece gay molto risolto che ha un suo compagno, che sta bene, tranquillo e per un equivoco loro due vanno ad abitare insieme. E da qui nasce una strana coppia degli nostri anni che si chiama appunto il film Amici per Caso perché casualmente questi due ragazzi si incontreranno e da lì diciamo le loro differenze diventeranno la loro forza. Ecco, la colonna sonora che film si rifà alla commedia italiana di un tempo, ai film americani, che strada prende? Allora, la colonna sonora l'ho scritta io insieme a Matteo Passarelli, oltre a essere regista e produttore, ok, sono anche musicista da tanti anni, ho lavorato già con alcuni artisti come Raf in passato e avevo messo da parte la musica per dedicarmi solo al cinema. Ma in questo film ho voluto ritirare fuori tutto il bagaglio culturale, la musica fatta negli anni e collaborare insieme a un progetto in inglese, tra l'altro la maggior parte delle canzoni sono in inglese, pensato proprio per il film. Quindi le canzoni sono un po' pop, c'è anche quel mondo queer che può star bene all'interno del film, c'è una scena musical all'interno del film. E quindi anche il videoclip di Mary Me, che è la canzone di punta, Vuoi sposarmi? Quindi è una canzone d'amore, divertente, fresca, allegra, con i ballerini colorati. Insomma, spero che al pubblico piaccia perché secondo me è molto molto simpatica come uscita estiva, ecco. Ecco, qui abbiamo il classico maschio ottuso e un gay raffinato. Si aspetta qualche polemica con il film in sala? Ma guardi, il film non è stato collocato nel mondo LGBT proprio perché parla a tutti, quindi potrebbe essere criticato forse da alcune associazioni LGBT perché non è abbastanza gay friendly, come dice il film. In realtà lo è perché poi il messaggio è rivolto al mondo etero per far capire che siamo tutti uguali. È volutamente, cioè la storia principale è proprio quella del ragazzo omofobo che attraverso il ragazzo gay riconquisterà la sua ex, quindi è proprio un film per tutti. Però ho voluto raccontare la storia di questo mero, un ragazzo risolto, gay, molto maschile, quindi insospettabile, tra virgolette, ma una persona tranquilla con se stessa, proprio per aiutare il pubblico a far capire che essere gay non significa per forza lustrini e paillettes, ma è tutto il contrario spesso. E quindi la cosa divertente è che inizialmente il ragazzo che convive con lui non riesce a capire che ha un ragazzo gay in casa e quando il ragazzo gay scopre che lui è omofobo iniziano ad esserci le paure da parte di entrambi. Quindi ho voluto parallelamente portare avanti questa storia per parlare a un universo variegato, non solo a un pubblico o gay o etero. Una volta impazzava politicamente scorretto, combattute pessime sulle donne ma anche sui gay. Ora, lei crede che censurare un tipo di linguaggio sia doveroso o nello spettacolo si dovrebbe pur fare qualche distingo, essere un po' più liberi via? Diciamo una volta c'era la macchietta, c'era questa tendenza a offendere in maniera esagerata, adesso c'è questo eccesso, come dice lei forse secondo me è vero, siamo in un eccesso, di censura su qualsiasi cosa, non si può dire nero. Nel nostro film abbiamo parlato in maniera esplicita delle paure dell'omofobo, del ragazzo medio che magari si trova in casa un ragazzo gay, quindi non possiamo edulcorare questa cosa, se no non è più reale, perché questo problema ancora c'è, purtroppo, della chiusura. L'intolleranza è diffusa e se vogliamo vedere che cosa accade fra un ragazzo omofobo e un ragazzo gay, possiamo vedere il film Amici per Caso di Max Nardari. Scopriremo che alla fine con un po' di fortuna e tanta buona volontà ci si può incontrare e soprattutto si può capire che l'umanità è qualcosa di molto diverso dal pregiudizio. Grazie Nardari. Grazie a voi, a prestissima, mi raccomando la corona sonora la trovate su tutti gli stores musicali, a Mary Me e la canzone di punta, grazie alla Warner, a Giuseppe Fisicaro e a tutti quelli che hanno creduto in noi. Grazie a te, ciao.